a partenza via ciao a tutti amici ci riproviamo per se si siete se sentite perché se no bisogna che intervengano i miracoli chi è collegato mi fa sapere se mi sente ciao a tutti mi sentite scrivetemi fatemi sapere se riuscite a sentire l'audio va un po' a tratti aia nel senso che scatta e che la di si si sente ok francesca grazie oddio non saprei cosa fare perché non c'è niente collegato abbiamo messo la dsl veloce a fibra piripi piripi strappa cosa significa scusate l'ignoranza non è pc ricolpi sì ho provato prima non funziona il microfono l'unica è col telefono ma il telefono è collegato da corrente elettrica quindi teoricamente il wifi è a manetta la linea nuova di pacco l'hanno messa a posto 40 mega una roba che vorrebbero viaggiarsi le astronavi dentro molto va molto meglio maria matera diceva molto meglio federico che piacere anna io adesso fra un po dovrebbe perché qua c'è c'era una stufa che probabilmente fa un po di rumore potrebbe essere quella la causa ah la linea c'è brutto tempo e non lo so volete che rimandiamo oppure perché con la linea mobile si sente proprio nel senso prende malissimo il telefono sulle linea fissa c'è ma se la prostituzione ma è riuscito a sentirmi un po' dice adesso va un po' meglio può essere terminata temporane no vai avanti e beh niente noi sono tanto tempo che non ci vediamo e siamo stati tutti in lockdown siamo stati tutti Così abbiamo vissuto questo incubo virologo, questa macellazione mediatica, questa divisione fra persone, queste violenze verbali, queste tentativi malsani di far tutta la società, mandare in crash sistemi psicologici, perché purtroppo ho visto un video dove uno si è dato fuoco, nel senso che si è arrivati veramente a toccare senza il fondo. Ai noi, cosa recente di questi due giorni, un giorno e mezzo, che la guerra sembra che abbia riacceso un altro focolaio, perché giustamente tutti i nostri uomini sono puntati sull'Ucraina, su quello che sta accadendo, ma non è che nel resto del mondo ci sia la pace. Io guardavo su Twitter dei video per vedere un po' com'era la situazione al di là dei telegiornali, i nostri europei, o giustamente essendo parte dell'Alleanza Atlantica, e la famiglia del mondo. Allora ho visto per andare su Twitter, ho dato un'occhiata, e tutte le persone musulmane dicono sì, però per tutti i nostri paesi che sono stati bombardati, tutta questa attenzione mediana non c'è stata, e non hanno tutti i torti, non so, nel Mali c'è una guerra che è in furia d'anni. Purtroppo noi, adesso che ce l'aviamo in casa, la sentiamo più vicina, ma tutte le guerre sono terribili, e il motivo per cui ci fanno le guerre è sempre il solito, potere. Noi siamo una razza che è i sapiens, siamo un poco più intelligenti degli animali, ma abbiamo gli stessi istinti degli animali, quindi usiamo questi istinti uniti alla ragione. Dalla tua campagna, vedi tu, cosa succede? Scusate, non stavo leggendo. Allora, ti possiamo sentire comunque? No, staccare la stufa. Si può contare domande? Si può ritirare l'audio? Scusate la qualità bassa. Sera destino avverso. Eh sì. Se magari con il tempo migliora l'audio, scusate. Ciao cara Giudi. Tutto questo per essere un mondo. Valor Vesci. Valor Vesci. In realtà, diciamo che le guide mi dicevano sempre, no? L'esterno è un riflesso dell'interno. E allora, come ognuno di noi porta fuori, consciamente e inconsciamente, ciò che è, queste persone, queste unità, che sono a regnare nei vari stati, nelle varie nazioni, nei vari continenti, stanno portando il loro esterno, no? Cioè, stanno portando il loro interno all'esterno, stanno manifestando le loro virtù, ma anche le loro parti in ombra, le loro, chiamiamole brutture, no? E quindi, ne vince, no? Viene fuori che, tutta questa grande intelligenza, perché, io sono una persona, fra virgolette, chiamatemi di scienza, nel senso, mi interessa tanto la tecnologia. Ci ho lavorato dentro, ci lavoro ancora dentro, e anche per passione, mi piace la fisica, mi piace... Quindi, tanto guardo, no, questo mondo, perché, non so voi, ma io mi sento un po' come un visitatore, come uno straniero, ok? Un extraterrestre, vedetela così. E mi interrogo su quello che c'è su questo pianeta, perché vedo che noi, come popolo, siamo tenuti, a livello di conoscenza, a un livello veramente basso, base. Mentre la realtà che ci circonda ha un livello di complessità che è spesso e inimmaginabile. E quindi, quando cominci a fare ricerche sulla materia, sull'energia, sulla luce, sulla tecnologia stessa, ti accorgi che quello che, magari, guardando in televisione, vediamo quotidianamente, è distantissimo a luce da poi le conoscenze che queste persone, queste aziende, questi sistemi, queste entità, questi esseri hanno. E allora ti accorgi che qualcosa di strano, no, va alla rovescia. In realtà va, come dicevamo prima, perché stiamo evolvendo. Se siamo su questo piano dimensionale, se siamo su questa terra, ancora dentro, ha questi corpi, che hanno tutti questi bisogni molto predimensionali, basilari. E non siamo solo spirito, non siamo solo amore, non siamo solo luce. Abbiamo tutte le nostre belle, non so, non so voi. Io guardo Federico, Federico ha tutte le sue belle reazioni, si arrabbia, si frustra, si dispera, si rattrista, piange, si sente sconfortato. Poi si illude, quante illusioni. Cioè io, due anni fa, quando ho canalizzato, no, questo libro, ero dentro questa energia meravigliosa delle guide. E per un attimo mi hanno così sollevato da me stesso che pensavo di essere un'altra cosa, nel senso ho sentito quest'amore gigantesco e ho creduto di essere quell'amore. E piano piano sono tornato dentro, dentro di me, e lì c'erano tutte le cose risolte, no. La cosa meravigliosa che Dio mi ha donato in questi, questi ultimi, no, in quest'ultimo anno, è stata la fidanzata, la Maria. Perché finalmente ho potuto mettere nero su bianco la via del cuore. Nel senso, una volta che hai ricevuto le informazioni, no, e le comunichi poi agli altri, le devi mettere in pratica, le devi vivere nel quotidiano. Perché ricordiamoci che la realtà è il nostro quotidiano. Sempre. La proiezione del futuro è illusione. Noi dobbiamo ricordarci che la realtà è il presente, il quotidiano. Il famoso qui ed ora. Tant'è che ci sono i detti popolari, no, del domani non va certezza. C'è solo oggi, c'è solo adesso. E il dopo è solo l'adesso e con qualche secondo in più. E allora se ci facciamo prendere da questo fenomeno, no, del rincorrere il tempo, ci perdiamo. Negli infiniti frammenti di tempo. Invece dobbiamo tornare dentro, no? Perché nonostante tutti questi eventi così terribili o così altamente condizionanti che stanno accadendo, le nostre menti sono state messe a dura prova e sono messe ancora a dura prova. La nostra forza di volontà, la nostra fede interiore, no? La nostra capacità di ascolto. Perché quando c'è tanto rumore, quando ci sono tante energie che ti spingono, no, a reagire ed agire all'esterno, ti dimentichi del tuo interno. E dimenticandoti del tuo interno perdi il baricentro e quindi sei preda di questi fantastici predatori che non vedono l'ora di prendere il controllo della tua mente e di fare quello che vogliono loro. Vabbè, vediamo un attimo cosa mi state scrivendo. che angoscia, che paura. Giusi, sì, fanno di tutto per metterci nel terrore. E allora la prima cosa che dobbiamo fare, Giusi, è abbracciare la paura. Perché la paura radice di tutte è la paura di morire, no? Nel libro è scritto proprio a carattere cubitale. La paura della morte ti segue sempre. Ma le guide dicono ma non ti preoccupare, anche noi ti seguiamo sempre. Non sei mai lasciato a te stesso. Mai. anche quando non ci senti, anche quando pensi che il mondo ti stia crollando addosso, in realtà solo per il fatto che stai ancora respirando, sei portato, in questo caso sei portata, in palmo di mano. E che noi non riusciamo a sentire la fregatura dell'entità umana è che non riesce a sentire. Noi non riusciamo a sentire. Perché siamo così intossicati dai sensi e perché si portano inevitabilmente all'esterno di noi che perdiamo, perdiamo proprio la strada. Io ogni tanto mi perdo, eh. Non pensate che Federico sia sempre dentro, no? Nel senso, io ho fatto un periodo che ero sempre solo dentro, ma facevo solo quello. Passavo tutta la mia intera giornata a prestare attenzione ad ogni singolo pensiero. Appena c'era un pensiero portavo l'attenzione al sentire. E stavo sempre lì, H24, ho fatto un full immersion, ho fatto per un paio d'anni quasi. Poi però, insomma, sono qua. Mi ricordo, no? Le parole delle guide. Torna sulla terra, che tanto in cielo ci torni, ci tornerete tutti. E ce l'ho interpretata così. A meno che io non mi metta a fare il monaco, zen e viva solo di quello, avendo una vita nella società e dovendo fare altro, bisogna comunque anche un po', no? Dopo stare nella nostra mente, bisogna imparare a farci amicizia con noi stessi e con tutte le nostre parti. Dobbiamo imparare a dominare i nostri istinti e a dominare la nostra mente. È la carrozza di Gurdjieff, no? I cavalli corrono veloci, ma abbiamo le redini in mano. Siamo noi il cocchiere. Noi siamo la forza di volontà. Allora, prima dobbiamo imparare a riconoscere l'energia che si sposta. Poi, dobbiamo restare salvi. Nel senso, prima mi preoccupavo tanto, no? Oddio, sto pensando, adesso è più easy. Nel senso, sì, vabbè, sto pensando. E la testa mi sta portando in giro, sto correndo dietro, sto dando energia a dei pensieri che, fra virgolette, mi rubano tempo e mi rubano energia, no? Ma, se ci metti l'ansia non è che cambia. Perché la mente non smetterà mai di fare questo lavoro. Il cervello è strutturato così. È come lo stomaco. Lui ogni tanto ha bisogno di mangiare. Cioè, è fatto così. Perché era il suo meccanismo. ci obbliga a buttargli dentro il cibo. E allora, star lì a fare le guerre ai nostri organi o alle nostre parti non serve. Lo accettiamo con massimo della serenità è come guardare una farfalla che vola, no? Ah sì, un pensiero. Bello. Lo lascio andare. Ritorno dentro. Appena mi accorgo di essere fuori ritorno dentro. A me bene mi accorgo che una cosa mi sta facendo reagire se ho la forza ritorno dentro. Perché il più delle volte non so voi ma io non ho la forza di non reagire, no? E allora che cosa succede? ti incazzi. Per più delle volte ti incazzi con quel qualcosa che sta accadendo o quell'oggetto o quella persona e dopo un po' che sei incazzato che la rabbia piano piano si esaurisce che cosa ti resta? Resti tu con quella cosa irrisolta o l'oggetto della tua frustrazione e devi piano piano rientrare. E lì ti accorgi, no? Dici caspita mi sono partiti cinque minuti per quale motivo? Perché sono andato in frustrazione. Mi sono così identificato nel mio flusso di pensieri ok? Mi sono così identificato nell'immagine che ho della realtà e di me stesso che la realtà mi ha come rispecchio, no? riflesso una verità a me scomoda e quindi la mia immagine di me stesso viene distrutta e quindi io vado in frustrazione. o vado in paura o vado in reazione perché se no non reagisci. Cioè quando uno senti la pace, no? Quando sei in meditazione quando sei rilassata rilassato sereno tranquillo che nulla ti turba in quei momenti non reagisci. Quando è che reagisci? Quando sei nell'azione nel fare. Quando sei nell'azione e tu hai un programma ok? Perché prima di agire devi pensare prima dell'azione c'è l'idea allora se la mia idea di realtà di me stesso e dell'azione che devo compiere cozza contro poi la realtà delle azioni che compio vado in frustrazione quindi sclero vi faccio un esempio semplice e io devo fare un programma sto facendo un algoritmo che deve fare cose nella mia mente è stato già fatto velocissimo ah sì deve fare così 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 poi nella realtà mi devo scontrare con le leggi matematiche con le formule ok? con i dati da fare integrare nelle formule e questa roba è frustrante ok? è tanto frustrante e quindi se nella mia mente tutto era facile e il risultato era già lì nella realtà la scimmietta qua si deve rompere la testa nel senso ci vuole del tempo per assimilare dei concetti astratti o dei concetti di cui non hai conoscenza e così questo esempio molto semplice vale per tutte le cose della nostra vita ok? e anche per tutte le informazioni e qui mi rilaccio al discorso che stavamo facendo all'inizio della nostra vita tutto ciò che ci sta arrivando in questi due anni che cos'è? sono tentativi dall'esterno di modificare il nostro interno così che noi nelle nostre azioni facciamo quello che vuole qualcun altro il famoso vaccino no? per esempio l'obbligo i tentativi di farvelo fare a tutti i costi sono modi e scamotage per fare in modo che il tuo interno agisca per i fini di qualcun altro non voglio entrare in merito al giusto sbagliato serve non serve quelle sono cose personali ognuno fa le sue scelte ma a me piace che Dio ci ha dato il libero arbitrio e non mi piace che qualcuno cerchi di togliermelo tutto lì uno è libero può fare tutto quello che sceglie di fare nella propria vita c'è sempre azione e conseguenza non si scappa mai dall'azione e conseguenza allora dovremmo sempre chiederci perché esistono certe azioni quali sono i fini che le muovono e poi quali sono le conseguenze e la cosa che io ho visto in questi ultimi anni è che ovviamente c'è chi la narrazione che gli arriva dall'esterno la vive come il proprio interno quindi crede che quella narrazione sia la realtà e quindi sia sua e c'è chi invece magari come noi qui ha fatto un lavoro interiore e riconosce che la narrazione che gli viene propinata costantemente è una cosa che arriva dall'esterno mentre nel suo interno su cui fa pratica costantemente con la meditazione con tutte le tecniche desiderate ha creato quello spazio interiore che gli permette di dire oh questa non è roba mia questo non è il mio interno questo esterno che arriva dentro di me è l'interno di qualcun altro ok perché non sei solo nell'universo esistono anche gli altri allora tu puoi scegliere di entrarci in relazione e di fare esperienze condivise condividere no o non condividere dipende o condividere con altri non so mi viene in mente gli aperitivi che stanno facendo per strada noi abbiamo uscito quelle persone hanno scelto di non condividere certe ideologie certi obblighi e hanno dimostrato nel concreto che è possibile vivere la realtà cittadina in un altro modo senza far del male a nessuno senza spaccare cose o di fare che erano semplicemente condiviso ed è stato bello da vedere anche perché le relazioni prosperano e alla fine la vita è relazione dicono le guide con se stessi e gli altri perché attraverso la relazione impariamo a riconoscerci riscopriamo pezzi di noi perché l'altro ci fa da specchio certo a volte l'altro ha uno specchio deformante ma anche se è deformante comunque un po' la nostra forma ce la fa vedere e quindi possiamo misurarci misurarci e riconoscerci per valutare se è il caso di cambiare adesso mi sentite un po' meglio che qua il trattore ha smesso di fare casino io leggo un po' i vostri messaggi così magari interagiamo un po' se avete qualcosa da dire andate sereni allora spero che finirà presto tutto questo il mondo va alla rovescia questo l'ho detto anche prima si sente male angoscia si sente male bello vederti ah mi viene ciao cara si sente male ancora caspita si sente malissimo dipende dal tempo adesso si sente meglio andiamo bene ma perché questo qua torna sempre indietro la narrazione ci avete scritto un sacco di roba ma non riesco a vederla allora la narrazione è fatta fuori le leggo a ritroso perché facebook mi dice questa applicazione è terribile la narrazione è fatta fuori e condivisa dal più non mi corrisponde per niente è un incubo eh Roberta è così perché sfruttano il guarda le pecore no le pecore tendono ad andare dove vanno le altre pecore no è un aspetto proprio di come si dice innato nella nella biologia quello del del branco del gruppo serve a prolunga ad aumentare le possibilità di sopravvivenza allora la massa più è coesa e più è al sicuro non è una cioè noi non dobbiamo le guide la prima cosa proprio la primissima cosa che mi dicono il male non esiste esiste la sofferenza e le persone che soffrono portano attorno a loro la sofferenza ok noi dobbiamo toglierci quest'idea che esista il male in sé come il diavolo che ti tenta no tu sei fatta sei dentro una un'entità biologica che ha bisogno di mangiare che arriva da millenni di condizionamenti animaleschi che arriva da millenni di condizionamenti psicologici che sono la società cioè il modo di vivere la vita nel senso noi siamo tutti nati in cattività quanti di voi sono nati negli alberi e hanno vissuto attaccati un albero come i nostri parenti scimmie nessuno noi siamo vissuti in una società la società si porta dietro tutto quel background informativo e conoscenza utile ma anche tutte le cose irrisolte tutti i drammi tutti i dolori tutte le cose inconsce perché perché non siamo coscienti magari fossimo coscienti e quindi diventa un incubo perché tutti poi si omologano perché hanno paura cioè se la loro idea di realtà viene messa in discussione ti crolla tutto cioè voi immaginate non so vi faccio un esempio io ho fatto per 15 anni il tecnico IT quindi il tecnico informatico stavo dietro il computer ai telefoni le reti voi immaginate che io sia pienamente identificato nella funzione che svolgo no io sono Federico tecnico informatico e se dall'oggi al domani l'azienda mi manda a casa perché non mi voglio vaccinare che succede? mi vaccino perché sennò io perdo la mia identità sociale l'immagine che io ho non sono più Federico informatico allora devo correre dietro a quell'immagine in più se mi licenziano non ho i soldi per mangiare quindi muoio di fame ci aggiungo la paura della morte poi cosa c'è? ci sono i media i media mi dicono ah tu sei diventi un Novox ah no no io voglio non voglio essere additato escluso cioè ci sono persone che mi è capitato di leggere da qualche parte che per il semplice fatto che le persone della sua cerchia questo era un avvocato gli altri avvocati l'hanno additato questa persona si è sentita male perché non era predisposto a vivere con l'agonia addosso e nel momento in cui ti mette l'agonia addosso questo qua ci resta male si è omologa capite perché non c'è male nell'omologazione di massa perché purtroppo c'è la fragilità c'è l'incoscienza c'è noi quando la prendiamo di petto io sono nel giusto tu sei nello sbagliato allora lì si attiva l'ego quindi la mente l'idea che io ho di me stesso della realtà che va contro l'idea che tu hai di te stesso della realtà e questi io cominciano a litigare a farsi del male e lì ci si scontra ma se tu parti dal presiposto che nessuno vede la realtà siamo tutti soggetti all'interno di un sistema gigantesco per cui tutte le realtà nostre sono realtà ma relative quindi Federico esiste tutta la vita che Federico fa è una realtà ma non è l'unica per cui tutte le cose che io posso scoprire e gli oggetti che posso creare o posso utilizzare sono reali ma lo sono anche tutti quelli che create voi e che utilizzate voi ok quindi è tutto giusto ci dicevano anni fa in prunita e quindi se alcune cose non ti corrispondono le lasci andare perché corrispondono ad altri noi prendiamo solo quello che ci riguarda e quello con cui siamo in risonanza tutto il resto non ci tocca Nadia ciao Nadia io ho provato a fare l'ascolto del cuore e mi sono trovata fuori dal corpo c'è una spiegazione sì Nadia che tu non sei solo corpo tu sei l'energia che abita il corpo e quindi puoi è come con la mente ti perdi nell'etere quindi ti perdi nei pensieri puoi andartene su Marte con la mente a fare degli esercizi di chiaroveggenza e fisicamente vedere cose che stanno su Marte volendo se sei una forte chiaroveggente nel senso se fai pratica perché è una proprietà dell'essere umano che va solo sviluppato la stessa cosa nell'ascolto del cuore ti colleghi con il tuo sentire quindi con la tua anima e tutti i regni dello spirito e quindi vai fuori sì dal corpo è normale come dire entro nella macchina la macchina è quella che si guida entro nella macchina e vado fuori dalla macchina il corpo è una macchina accesa il cuore batte tu 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 tiene in piedi la macchina è come la macchina che ha il motore acceso tutto il motore che gira quando il guidatore entra nella macchina la macchina si anima e va secondo certe direzioni vado sul lago vado in montagna vado al lavoro vado al supermercato quindi il corpo è uguale né più né meno allora noi possiamo entrare e uscire dal corpo tranquillamente possiamo andare nei regni degli istinti quindi i bassi le frequenze più terreni animalesche primordiali quelle più alienanti che nel senso si portano fuori eteriche leggere o quelle dell'anima quelle del sentire quindi le parti emozionali la pace l'amore a calma l'infinito e quindi la spiegazione penso che sia questo oh sarita ciao cara la sarita sta per diventare mamma fateli gli auguri dagli auguri allora perché sono d'accordo con te ti chiami come mio figlio senza amore intorno si sta male Roberta sì eh sì senza amore intorno si sta male ma le persone ricordati che hanno bisogno di amore e che la meta di ogni essere umano è l'amore allora se noi guardiamo oltre l'ideologia riusciamo a scorgere l'amore dentro ogni essere venente certo di questi tempi non è semplice però è possibile bisogna fare un po' di lavoro d'altronde noi siamo qui su focus non siamo in un'altra in un altro gruppo qui siete tutti lavoratori interiori e quindi avete quella fiamma accesa no che vi permette di vedere l'amore anche dove c'è una bella coperta sopra nera e possa sembrare che non ci sia niente di niente ma solo il buio Mirella ma se manteniamo la nostra autostima l'amore per noi stessi tutelando il nostro equilibrio interiore riusciremo a superare tutte le difficoltà e le oggettività frustranti Mariella Azzara sono d'accordo Mariella sì restare centrati in se stessi è la chiave per non soccombere agli accadimenti della vita è chiaro che non è sempre possibile nel senso che essendo noi esseri in evoluzione inevitabilmente alcune cose ci catturano e ci obbligano poi a fare a immedesimarci nel dramma che viviamo per poi evolvere però in linea di principio quello che hai detto lo condivido sono d'accordo con te perché questo se ne va allora se tieni tutto dentro ti ammali fondamentalmente sì è come ti intossichi come con le emozioni io quando è venuta fuori questa cosa della guerra in Ucraina mi sono sentito male mi è venuta la tristezza mi è venuto cioè ha detto no ma ancora questa razza umana ancora 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 così sta e vedere queste persone che soffrono le persone normali comuni come noi che vivono in città non sanno neanche dove andare e non hanno fatto niente di male sono sicuro non l'hanno voluta loro quella guerra non l'hanno chiesta non sono andati a combattere o a provocare l'iracondia di qualcun altro queste persone sono costrette a subire eh sì ti prendi male stai male sì e quindi se non sto tenendomi dentro questa emozione cominciavo il discorso delle emozioni è importante perché quando noi soffriamo o entriamo in risonanza con una sofferenza e ce la teniamo lì dentro per non ascoltarla poi ci ci scolleghiamo ci scolleghiamo dal nostro sentire dal nostro spazio interiore perché il nostro spazio si sta riempiendo di un'emozione a cui noi non vogliamo dare energia questa emozione resta lì in attesa che noi l'ascoltiamo quindi a un certo punto piangendo mi sono riallacciato al mondo perché c'è stato un momento che ero in un mondo di mezzo fra il mio sentire e la realtà fisica che è stato vivendo per cui non riuscivo a viverla quella realtà fisica perché dentro soffrivo e non riuscivo a goderne della bellezza del creato quindi è importante quando stiamo male ascoltare i nostri dolori e cercare di liberarci è un po' come aver fatto un'indigestione quando state male 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 che avete mangiato troppo o avete mangiato qualcosa che vi ha un dia variato che vi fa reazione da qualche parte deve uscire o sopra o sotto scegliete voi allora ci puoi dare un consiglio Graziella dovresti dirmi riguardo a cosa? Mariella la mente mente sì la mente cito le guide Mariella la mente è un labirinto di pensieri in una scatola buia dove tutto è illusorio tutto è il contrario di tutto è tutto frutto delle interconnessioni tra le informazioni e ti perdi in quel labirinto ok quindi la mente sì mente perché è frutto di esperienze è frutto di collegamenti è frutto di sentito dire è frutto di aver visto di aver sentito è frutto dei sensi la mente ok la mente è frutto dei sensi ed è l'interconnessione delle informazioni che i sensi portano alla mente per questo è un labirinto di pensieri in una scatola buia la mente sta dentro il mio cervello il mio cervello vede la realtà attraverso i sensi e quindi sono in una black box in una scatola nera dove ho gli oblobbi piccolini con cui decodifico la realtà ma questa realtà è inavvicinabile inarrivabile per un essere come me ma perché sono strutturato così quindi l'unico modo che ho per decodificare la realtà è la coscienza e quindi bisogna immagina l'anima che sa praticamente tutto e viene qua è abbagliata dei sensi e ciao e si perde si dimentica di sé e allora la fa continua a fare questo processo in cui la coscienza comincia a espandersi sempre di più fino a trascendere l'umano e a quel punto lì nonostante i sensi siano limitati e tu attingi dopo non ai sensi ma alla coscienza quindi attingendo alla coscienza diventa un mondo interno e un mondo esterno quindi c'è il mondo dell'incarnazione che è il mondo fisico il mondo tridimensionale il mondo della scimietta e poi c'è il mondo della coscienza dell'anima dell'essere quel mondo lì da dove noi proveniamo da dove noi dimoriamo perché il fatto che sono incarnato non significa che io non sia anche di là e non lo siete voi allora capisci mi ricollego a prima Nadia mi sembra che mi hai chiesto del del viaggio astrale scusami dell'uscita dal corpo sì ti ho detto è normale perché perché da una parte sei fisica dall'altra sei energia sei coscienza sei spirito e sono tutte e due appiccicate una è come la medaglia è come la moneta una è attaccata all'altra nel senso è a due facce sono due dimensioni terza e quinta la quarta è la mente spero di essere chiaro se no mi richiedete poi approfondiamo Katia ciao cara Katia benvenuta come non li vedi Graziella perché devo andare all'inverso se da sopra vado verso il sotto Facebook si incasina se da sopra lo so così quindi sto leggendo lì al contrario i messaggi se volete Federico risponde da consigli consigli Enrico grazie cerco di darvi punti di osservazione usando come elementi quelli che le mie guide mi hanno dato tant'è che alle cose che non so rispondere vi dico non lo so perché non si può sapere tutto mi piacerebbe a me piace riconoscere è una cosa che mi mi dà gioia mi dà gioia riconoscere pezzi della realtà capire come funzionano le cose i meccanismi e si mi accontenta con poco e poi mi piace l'amore i sentimenti e le anime belle le anime belle mi piacciono proprio tanto quelle che sono spontanee quelle che ti ti fanno vedere ciò che sono senza volerti mandare un'immagine diversa noi caspita oltre ai vestiti indossiamo delle armature psichiche mentali energetiche non mi vedi non mi vedi non esisto non mi vedi non servono a niente chi sente vi sente e anche voi sentite tutto e tutti abbiamo abbassato tanto i volumi del sentire per non sentirsi e quindi non possiamo sentire anche gli altri penso che la mia paura è relativa alla manipolazione allora Carmen mi piace questa cosa la mia paura è relativa alla manipolazione le idee parassite capitolo le idee e allora è vero il cervello come i computer è scassinabile ok nel senso arrivano gli hacker arrivano i worm i ransomware arrivano i trojan arrivano tutti quei programmi informatici che servono a prendere il controllo della tua macchina rubarti i soldi rubarti le credenziali crittografarti i tuoi dati personali e poi chiederti il riscatto esistono la mente è figurati cioè allora voi immaginate che noi nasciamo e ci ci riempiono il cervello di cose cioè guardate tutto ciò che avete studiato dalle elementari fino alle altre scuole e guardate quello che poi avete applicato realmente di tutta quella conoscenza poco è stato fatto quindi immaginate magari che esistono entità che quella conoscenza riescono a tenerla tutta in memoria e a usarla ci mangiano gli occhi in testa sono intelligenti se sono entità quadridimensionali e hanno il dominio della quarta dimensione ci mangiano gli occhi in testa perché noi siamo ancora qua appresi un po' del corpo un po' dei sentimenti un po' della mente cioè noi siamo sballottati in questo turbinio di sensi di cose questi qua invece sono entità quadridimensionali che se ne stanno nella mente ci hanno i mitragliatori ci hanno li vedete cioè guardate che le leggi della fisica che stanno dietro a tutte queste artiglierie sono mostruose questi qua sono ingegnosi hanno una mente favolosa il problema è che non hanno cuore non lo usano non lo usano e non usandolo la loro mente abbraccia idee e se l'idea che abbracciano è quella di ti faccio vedere io chi sono è un casino perché gli altri io che hanno la stessa che vivono nella stessa dimensione che comandano altri pezzi di questo mondo gli dicono ti faccio vedere io chi sono e questi bellicosi poi distruggono tutto ma fortunatamente non si muove foglia che Dio non voglia e quindi al momento opportuno l'ordine verrà ristabilito certo magari non è non sarà secondo i nostri desideri o i nostri tempi ma l'amore è la meta dell'universo e quindi prima o poi arriverà anche quello è la manipolazione contro Dio poco poco per cui quando tu Carmen sei collegata il tuo sentire al tuo mondo interiore al tuo Dio interiore alla parte di te che è Dio la manipolazione viene riconosciuta a migliaia di chilometri di distanza come sensazione come intuizione come sesto senso e tu riconoscendo quello dici sta cercando di mettermi nel sacchetto e la lasci andare chiunque sa o esso sia grazie la dobbiamo tenere alte le vibrazioni possibilmente sì dentro di noi nel nostro quotidiano ok torniamo giù torno in basso così vedo cosa avete aggiunto allora conosco quelle lacrime eh sì stai iniziando gli occhi riusciti eh sì perché ogni tanto sento queste cose sento questo amore gigante che sta dentro e piango nasce l'acqua vengo fuori le fontane cosa sbirci tu ehi scusate c'è Maria che sbircia allora il nostro sentire la nostra forza sì Carmen parole d'oro già noi abbiamo fra virgolette l'arma più devastante dell'universo l'amore è l'energia più potente di tutte nulla può vincere l'amore perché è vero un corpo me lo possono far fuori in miliardi di modi animano e quindi l'anima dice mi rompi la macchina me ne prendo un'altra frega niente l'anima è multimiliardaria può prendere tutte le macchine che vuole non è che ne ha una e se la deve tenere stretta stretta la lascia andare è chiaro che il mio io Federico D'Ambrosio che sta qua con il suo bel cappellino rosso i suoi peletti no sto figo all'io di Federico il fatto di morire gli sta sulle palle magari no dice no io sono no Federico è una macchinetta per la mia anima alla fine è così e quando avrò fatto quando comincerò a avere non so le parti che si rompono non risponderò più ai comandi l'anima dirà boh Fede ha fatto il suo compito adesso lo lascio andare e me ne prendo un altro e quindi ritornerà il mio io sotto un'altra spogna magari si sarà alleggerito di un po' di karma avrà mollato un po' di zavorra e ritornerà più leggero e leggiato mi fa sorridere mentre ti guardiamo sorridere trasmetti serietà trasparenza amore per i valori fondamentali della vita animicamente se hai evoluto mariella tu dovresti vedermi nei miei aspetti umani dovresti parlare con maria sono tremendamente umano ma tanto 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 ma proprio avete presente la scimmia ogni tanto a maria gli faccio la scimmia tarzan perché c'è 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 il mio io il mio io è pesante ha vissuto delle compressioni c'è ne aveva passate di tutti i colori no e e c'è è parte di me ma fortunatamente non c'è solo quella parte e perché se no sarebbe tragica non sarei non potrei essere qui fortunatamente sì c'è l'anima che qualche lavoro lo ha fatto e quindi riesce a a sentire anche quell'amore che sentivamo prima insieme no ed è quella cosa che probabilmente vi tiene qui quell'amore che arriva da là che è così bello che ci fa sentire no così fra virgolette rassicurati così amati coccolati quando si dice che i nostri cari sono più vicini di quanto possiamo pensare sono energie vicine a noi ma giusto di certo è il discorso che dicevamo prima questa è la mia scimietta federico l'incarnato questa è la mia coscienza che è legata all'anima ok l'anima dei defunti sta insieme a tutte le altre anime d'accordo scusate l'esempio è questa immagine qua vediamo se la metto a fuoco cioè questi pallini qui rappresentano tutte le anime no e se voi li vedete questi qua bianchi sono gli incarnati su questa qua che è il pianeta Terra le anime sono tutte collegate da questi semicerchi che sono le energie dei regni superiori quindi tutte le anime sono interconnesse ok attraverso i regni superiori e poi scendono energeticamente e si incarnano nell'uomo e l'uomo vive sulla Terra allora tu immagina che sei questa Giussi sei qua sei dentro questo mino bianco che vive su questo infinito poi sei collegata all'anima e qui a fianco qua c'è un tuo defunto allora lei questo defunto il corpo non ce l'ha più ma rimane l'energia dell'anima e quindi essendo collegata a tutte le altre arriva anche a te ok questi sono simbolismi è una semplificazione perché io non so come si sta lassù e come funziona lassù è una roba per renderti l'idea d'accordo quindi non prenderla per assolutismo immagina ti fai un'idea per capire che dentro di noi c'è tanta 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 roba e che nessuno muore veramente nel senso l'energia dell'essere non muore muore il corpo quella sì la macchina la lasciamo qua è della Terra e torna la Terra polvere sei e polvere tornerai no nulla di più nulla di meno e nulla di nuovo oltretutto caspita è andato giù perché continua ad andare giù allora che non so perché tutte le volte caspiterina se n'è appena lo tocco viene via a incarnarci ciao proprio così niente c'è verso vabbè mi dovete riscrivere al massimo se non vi ho visti allora Graziella sei tanto sensibile eh sì sensitivo scherzo sì sono sensibile sì è una dote da una parte è un dono e dall'altra ovviamente c'è rovescio della medaglia se tutto sento tutto mi ferisce però sento anche le cose belle e quindi viva l'amore mi sento male anch'io cosa? percepisco una sorta di tristezza nei tuoi occhi oh Dio beh sì sicuramente Mariella cioè ho le mie sofferenze non è un periodo facile per nessuno nel senso energeticamente è pesante questo momento cos'è stato? due anni fa ho fatto 35 festival del benessere quest'anno non ne ho fatto neanche uno la gente con la mascherina non la puoi abbracciare io facevo gli abbracci gratis cos'è? due Natali fa siamo andati a fare in cinque persone gli abbracci gratis in piazza Brava a Verona abbiamo abbracciato nella notte di Natale centinaia centinaia di persone sconosciute adesso non si può fare la gente ha paura ti guarda male se gli vai vicino è una tristezza sì è una profonda tristezza è un grandissimo dolore quello che stanno facendo per non non portare per non fare in modo che la gente stia nel cuore li vogliono vogliono tenere nella paura nella diffidenza nella rabbia vogliono alimentare tutte queste energie dense invece di creare meccanismi per alimentare le energie superiori lo fanno a posto perché sono convinti che così avranno più potere saranno più forti avranno più sudditi avranno più soldi avranno avranno qualcosa in più e quindi sì mi fa tanta tristezza hai perfettamente ragione allora adesso l'audio è perfetto quindi era la stufa sì ma è tutto assurdo Fede gente in giro con le mascherine all'aria aperta non ragionano con la propria testa Roberta hanno paura la gente ha paura e quando quando hai paura non reagisci cioè non agisci reagisci ok l'azione può essere incosciente o cosciente la reazione è un istinto di sopravvivenza automatico un meccanismo potentissimo ok che non riesci a comandare lo comandi quando sei cosciente ma se non hai fatto un lavoro sul sentire sulla mente e sulla coscienza non te ne accorgi cioè tu immagina che questi qui sono nati in una buca ok sono nati in una buca hanno vissuto al buio tutta la vita arrivi tu che sei nata caspita sulle montagne e gli racconti che ci sono delle vette ci sono dei prati ci sono dei paesaggi mozzafiato e questi stanno dentro al buco e vedono solo buio e come potranno mai capire quello che gli stai raccontando o cerchi di fargli vedere devono avere il coraggio di uscire dal buco e finché non faranno questo salto il famoso salto quantico ok colpifero col piferaio magico che faranno questo tipo di lavoro e riusciranno ad apprezzare per loro la narrazione quella che è il condizionamento della televisione dei giornali e anche delle altre persone quindi il condizionamento che arriva ai sensi è la realtà cioè loro sentono quelle informazioni le vedono in televisione le vedono poi fisicamente attraverso le altre persone e cazzarola la loro realtà è quella gliel'hanno condizionata gli hanno invaso i sensi gli hanno messo degli esami cioè gli hanno fregati mentalmente e gli hanno fregati tridimensionalmente perché noi andiamo via con la mascherina nei supermercati capisci e il distanziamento e queste stronzate qua quindi fisicamente rimandiamo quell'informazione ai telegiornali e sui giornali e le parole che dicono gli altri rimandiamo quell'informazione quindi dentro loro che sono in quella buca nera è una verità quella verità va a toccare il loro istinto di sopravvivenza la paura cardine dell'essere umano che è la paura della morte questi qua stanno esplodendo dentro di loro sarebbero da abbracciare dire poverini vieni qua che ti do faccio due coccole perché stai stai morendo dentro l'anima c'è l'anima che sta urlando ha bisogno è come un bruco che cercherà di diventare farfalla deve morire prima fare un profondo processo di trasformazione potevano farlo in un altro modo hanno scelto il modo più più duro i nostri governanti fanno maturare le anime così o maturano vanno via cassa davvero scusate caspita ve lo chiedete perché certi muoiono certi non muoiono c'è uno che si vaccina ci fa tre dosi e non muore c'è uno che si fa tre dosi e muore c'è uno che non si fa una dose e muore c'è uno che che non se ne fa e muore lo stesso perché alla fine chi è pronto resta chi non è pronto va ritorna l'anima cambia macchina dice questa macchina non ce la fa che fa l'anima sta lì a incazzarsi perché la macchina non ce la fa la lascia andare e ne sceglie un'altra che ha delle caratteristiche biologiche pronte ad affrontare queste nuove energie cioè se hai una macchina a tre porte e ci vuoi far stare cinque persone devi star lì a romperti le scatole tutte le volte e ti compri una macchina diversa e ciao così le cinque persone entrano e riescono serenamente o ve la dico proprio così selvaggia grande cioè prendetela con me una confidenza d'amico va bene le guide non parlano di queste cose con me nel senso è un processo di evoluzione dell'umanità ed è l'umanità che determina come procedere noi abbiamo il libero arbitrio quindi scegliamo scegliamo non si assecondare questo processo che è stato instradato o seguiamo il nostro processo dettato del nostro io interiore o dalla nostra anima o dai nostri spiriti guida né più né meno o seguiamo il grece e quindi c'è un protocollo da seguire che ci porterà in un'evoluzione perché l'hanno studiata anche loro si piombano tutti dalla terza alla quarta dimensione è un processo evolutivo anche quello smettere di scusatemi adesso facciamo un punto passare dalla terza alla quarta dimensione quindi dal mondo fisico al mondo psichico significa che se io ho odio per te nel mondo fisico ti uccido e creo un karma enorme pesantissimo che poi mi devo risolvere negli anni successivi nelle vite successive se invece sono piantato nel mondo psichico e lo sei anche tu magari invece di ucciderti fisicamente ti uccido con un giochino virtuale ok ci giochiamo col computer ti ammazzo virtualmente e tu mi ammazzi virtualmente facciamo magari tutta la vita spararci con il computer che cosa risolviamo che abbiamo giocato insieme che abbiamo imparato a volerci bene che ci siamo comunque uccisi all'infinito ma non abbiamo creato karma è comunque un processo evolutivo anche questo che eviterà un sacco di pesantezza energia pesante non si può andare avanti da soli si va avanti tutti assieme ok l'universo evolve ma evolve insieme certo qualcuno va un po' prima ma ci dobbiamo andare tutti così perché sono tornato qua la narrazione fuori caspita torniamo indietro perché qua sennò non vedo più niente allora sta guardando in vita diretta ma come mai signore dobbiamo dire a facebook di fare lo scroll del telefono meglio l'abbraccio è importante grazie alla sì quando abbracci una persona i cuori si avvicinano si mettono contatto e ti fa sentire così ma è un po' come il bambino quando abbraccia la mamma che sta lì cioè tu immagina che se l'ha avuto nel ventre per nove mesi quel cuore era un tamburo sciamanico gigantesco era un gong ok poi di punto in bianco esci caspita il gelo freddo suono devi respirare prima eri nel liquido e poi ti rimettono vicino no mettono la mamma il bambino vicino al cuore comincia un attimo a risentire quella quella sicurezza che ha avuto per nove mesi nella pancia della mamma allora quando mettiamo i cuori vicini sentiamo quel calore quella cosa bella quel contatto intimo profondo è importante e se lo vogliono togliere ci vogliono provare almeno a toglierlo per i poeri siamo liberi di scegliere siamo sempre liberi di scegliere e però per farlo dobbiamo vincere le nostre paure e anche gli altri devono farlo è un lavoro se no seguiamo le regole aspettiamo che si stufano c'è problema si stuferanno prima o poi oppure ci stuferemo noi e decideremo a rischio di morire ciao lo abbraccio lo stesso magari non mi infetto allora dove siamo? io ho provato il tuo abbraccio ed è rimasto nel cuore bellissima emozione tutti vorranno abbracciarsi tantissimo eh sì eh sì Milena perché poi ci si scambia alla fine amore alla fine l'abbraccio è un gesto d'amore e entra in risonanza con l'energia dell'amore non serve parlare cioè noi a Natale che facevamo gli abbracci abbiamo abbracciato tutti di varie etnie di lingue diverse con alcuni abbiamo fatto due parole con altri niente solo un abbraccio un sorriso sì l'amore scalda il cuore e non fa rumore mi diceva qualcuno anni fa allora allora quante invidia vai nei posti fantastici meravigliosi ti ringrazio per avermi fatto vedere le tue foto che la farfalla ha un fascino particolare Laura bisogna tu immagina Laura che noi siamo attaccati ad una pietra no? e questa pietra sono i sensi è la dimensione che dalla mia faccia va fuori dalle mie mani va fuori da me va fuori da me il problema è che non va solo fuori mi contiene no? io sono dentro alla terra quindi sono dentro un mondo essendo dentro questo mondo ne sono fra virgolette imprigionato ok? e quindi questo mondo ha tutte le sue caratteristiche della vita sulla terra che tu ben conosci perché Laura vivi e quindi le capisci le vivi le pesantezze come vivi le brutture della propria mente no? tutte le questioni risolte i pensieri il ruminamento bla bla tutta quella roba lì ce l'hai ce l'ho io ce l'hanno tutti il discorso è quando lasci la pietra è un aspetto energetico lasci andare te ne freghi fondamentalmente te ne freghi come se mandi a fa un bagno tutta questa roba e dici oh veditela tu la metto nelle mani di Dio frega niente ok? ti lasci andare lasci che il mondo esista senza di te il mondo continua a esistere senza te tranquillo e tu continui a esistere senza il mondo e continua a esistere anche non facendo niente semplicemente respirando ignorando tutti gli input gli stimoli le forze che ti tirano la giacchetta a destra e a sinistra per mangiarti l'attenzione la tua attenzione deve essere rivolta al niente se non riesci a rivolgere a niente la rivolgi verso il battito del cuore ok? quindi da qua da qua la porti qua e qui cosa senti? il ritmo della tua vita l'attenzione E quindi diventi una farfalla anche tu. Dove siamo rimasti? Hai scritto Giusi? Hai scritto altri libri? Giusi no. Nel senso che... Per me quello che ho scritto basta e avanza. Nel senso che mi hanno dato così tanta roba che non mi basterà una vita per integrarlo. Posso scriverne altri ma alla fine saranno modi diversi per dirvi le stesse cose. Magari più avanti, chi lo sa. In questo momento no. Non ho neanche intenzione di farlo, nel senso non ne sento l'esigenza. Mi piacerebbe che integrassero questo libro. E cominciassero a viverlo. Più che scriverne altri. Perché tanto è tutto lì. Nel senso... Hai una mente, hai un corpo, hai un animo. Sono universi infiniti. Il tuo compito è riconoscere dove va l'attenzione e dove va la tua energia. Non identificarti nei drammi di questi universi. Ascoltare. Lasciare uscire quello che hai dentro. E poi viverla con serenità. Scegliendo di fare esperienza, anche se è una cazzata. Frega niente, la vuoi fare? La fai. Le guide mi dicono, se lo fai vuol dire che ti serve. Fine. Allora, capisci che faccio fatica a dirti che faccio un altro libro? Sono quattro cose. Certo, ci posso costruire un impero sopra. Scuole di Okuto. Zen, meditazioni, astrugasie. Frega niente. Io porto il messaggio. Chi è pronto lo coglie. Chi non è pronto non gli interessa. Poi se avete bisogno mi chiedete. Se nascerà l'esigenza di scrivere altro, vedremo. In questo momento preferisco vivere la vita. Preferisco vivere l'amore. Preferisco sperimentarlo nel quotidiano. Poi sto lavorando fisicamente in un altro mondo proprio. Sto costruendo altre cose perché ho altri progetti. Ho altre idee che ho scelto di abbracciare dove a volte dico chi me l'ha fatto fare. Però sono curioso di vedere dove mi portano. Costruisco. Costruisco la mia vita un giorno dopo l'altro. Non sapendo esattamente dove sto mettendo i piedi. Spesso in ciampo. Cado. Imprego. Mi dispero. Poi trovo nuovamente la forza. Arrivano un sacco di aiuti. E si va avanti. E chi vivrà vedrà. Magari lo scriveremo più avanti. Adesso no. Non è presente. Ti vogliamo vedere più spesso. Vienimi a trovare sto alzano ma è là. Andiamo via. No scherzo perché rifacciamo qualche altra diretta. o se no ci inventiamo qualcosa, facciamo un'uscita tutti assieme, andiamo in montagna, fare una camminata. Ci facciamo quattro ghiacchere. Il vero amore sopravvive a tutto, anche al cambio di direzione. Sì, sì, sicuramente. Poi dipende da cosa ti riferisci, però l'amore in sé è la forza dell'universo, quindi l'amore è cambiamento. Sicuramente. Sì, certo, saremo in mezzo. Cambieremo ambito. Sì, hanno esattamente la reincarnazione famosa, no? Allora, il consiglio era per sapere come iniziare un viaggio astrale. Allora, Graziella, questo è tosta. Allora, il consiglio era per sapere come iniziare un viaggio astrale. Beh, vedi, Graziella, io faccio fatica. Te lo dico proprio con tutto il cuore. Tu sei qua, fisicamente, ma al tempo stesso sei qua. Cos'è il viaggio astrale? Andare di là. Ma ci sei già. È una frequenza, è un aspetto della coscienza. Ok? È non farsi aggrappare dai sensi, dalla percezione del mondo reale, del mondo del corpo. e lasciare che questa parte che vive in te ti accarezzi, ok? Ti guidi, ti faccia vedere, ti faccia sentire. Piaggi. Puoi farla sdraiata, puoi farla meditando, puoi farla contemplando. Ognuno poi trova il suo modo. È a me è andato l'ascolto del cuore perché? Perché ti fa uscire dalla mente. È un modo per portare l'attenzione dalla testa al cuore. Perché energeticamente l'attenzione si ripiomba automaticamente in testa. Perché fisicamente devi essere vigile in questo mondo, no? La scimietta Federico, quella che mangia, caga e piscia, deve vivere in un ambiente iper complesso e quindi inevitabilmente vado in testa perché devo elaborare e processare migliaia di dati, di informazioni di questa architettura di mondo complesso. Allora, dopo che energeticamente sto qua per tanto tempo, mi dimentico di me. E quindi la focalizzazione dell'attenzione sul cuore e sull'ascolto del battito mi serve per uscire dal labirinto della mente, tornare al mio sentire lì, aprirmi alle frequenze, no? Anche i regni astrali. Io la vivo così e la vedo così. Sicuramente ci saranno altri modi, ci saranno altri processi, ma io te la racconto così. Cioè, per me è la via più semplice, no? Quella dell'ascolto del cuore poi è spostarsi di frequenza. Quindi togliersi da tutto quello che si sta pensando, tutto quello che si sta vivendo e ricollegarsi a chi. Io parlo con Dio, parlo con le mie guide, parlo con la mia anima. Cioè, io so che dentro di me esistono. Perché li ho sentiti, perché mi hanno fatto canalizzare un libro, perché mi hanno detto che vivono in tutto e in tutti. e quindi mi sono fidato. Perché è arrivato da dentro di me. E io sono un programmatore, sto attento ai punti e virgola. Sono stato molto attento quando ho scritto questo libro. Ho cercato di mettermi da parte il più possibile. Chiaro, sicuramente avrò fatto degli errori, delle pecche, delle imprecisioni, ma ci ho messo l'anima. Tutta. Ho preso la mia vita umana, l'ho messa da parte. Per due anni. La canalizzazione l'ho fatta in sei mesi. Quindi per sei mesi io ho fatto solo quello. Ho smesso di vivere tutto il resto. E quindi mi fido di quello che è arrivato attraverso me. perché mi conosco, nel senso avevo 40 anni, sì, sono 41 anni all'epoca e quindi avendo vissuto tutti quegli anni dentro, sentendo quello che ho sentito, ho detto quella roba non è mia. Mi piacerebbe, ma non è mia. Però è molto bello. E quindi il processo che mi hanno insegnato io te lo spiego perché secondo me è importante. A meno conoscerlo. Poi praticarlo ognuno fa il suo. Nel senso tu hai i tuoi spiriti guidati che ti guidano, quindi hai il tuo processo da seguire. Se dentro di te senti che devi fare un altro modo, lo fai. Tanto non esiste un giusto o uno sbagliato. Te l'ho detto, sono un relativo che vive una realtà soggettiva che è verità, ma per me. Con gli altri sette miliardi di umani, senza contare tutti gli altri miliardi di esseri viventi che vivono una realtà che io neanche riesco a immaginare, è reale anche quella. Per cui i modi per vivere l'esistenza sono infiniti. Se tutte le strade portano a Roma, figurati quelle che portano a Dio, quante sono o alla tua arma. Infinite. Quindi non c'è un modo. Sono infiniti i modi. Ognuno ha il suo. E l'importante è riconoscere che c'è questa possibilità e qual è la frequenza e il metodo che tu usi. Allora. Io sto andando a spada tratta, non so che ora è e non so se state dormendo. Vedo che c'erano 28 persone collegate, quindi penso che te vedete bot. a spada tratta, non so che c'erano Allora. Allora, dove siamo rimasti? È la prima volta che la sento. La tua voce mi dà pace. Ah, mi fa piacere. Penso che si deve essere incazzato in sto mondo così. Così hai inviato un saluto. Scusate, hai inviato un saluto. Ti ascoltiamo con amore. Grazie Nadia. Siamo sveglissimi e Francesca in dire oca miseria. No, quante invidia e fantastici. Perché vedo sempre le solite post. E nella mente impressione o a tratti arriva una luce più forte nel viso. Grazie, credo che sia un discorso alla fotocamera. penso che sia una cosa della messa a fuoco perché ogni tanto mi sposto e può essere che ogni tanto abbia degli scleri o se no stanno arrivando delle entità. No, scherzo, dai. È tipo adesso. Perché brevemente avvicino le mani. Allora, ho creato il tuo braccio. Questo l'ho visto. Sì, il momo invio i saluti così la smette di fare di ripropormeli. Ho un dubbio? Orca miseria, l'è scappata di nuovo. L'ambraccio è importante. Io non mi sono mai infettata e zero vaccini. Ah, Roberta, non parliamo più di sta cosa, dai. Tanto è quella che è. Ormai passerà anche quella. È una mia impressione o tra... Oh no, ancora. Viva l'amore. Ma perché non torna sempre allo stesso punto? Mariella, a volte sembri rapito da emozioni e statiche, Federico, tu se ne sei prescelto, curi molto la tua spiritualità. Allora, Mariella, sì, ogni tanto esco da me, esco dal ruolo della scimmia e mi collego all'amore, fondamentalmente le mie guide a... Ci sono dei momenti in cui entro in quella frequenza un po' di più perché magari si crea l'energia giusta o l'ascolto meglio io in realtà e quindi cambia l'energia. Cerco... Perché a volte si... Insomma, in funzione di quello che leggo mi si aprono certe porte dentro. E quindi allora poi a volte si apre un po' di più il sentire. Perché comunque non è semplice perché c'è sempre quella parte di te che controlla, che gestisci, che... l'ascimia, l'io. C'è sempre l'io in mezzo. Fra me e Dio c'è il mio io. Questo è il problema più grande, no? Io sono immerso e Dio, scusatemi, l'energia creatrice, l'alfa e l'omega, l'assoluto, la grande madre, l'alfbo, cioè... Io gli do... Uso il termine Dio, l'energia universale, Krishna, date tutti i nomi che volete. Nessuno sa cos'è, quindi. E chi sa cos'è... Ne vede un pezzo. Il nuovo libro Sognare con Federico. Eh sì. I viaggi mentali, no? I viaggi dell'anima. Non lo so, cioè voi non vivete... Come vivete voi la vita, ragazzi? Io adesso mi chiedo, no? Voi come vivete la realtà? È vero, avete un ruolo sociale, avete fatto delle scelte che vi hanno portato a vivere la vita in un certo modo, no? Ma poi voi siete tutto quello che cercate, nel senso siete una porta verso l'infinito, una porta verso l'universo. Ed è della paura più che ci frega, perché l'universo è lì. Questa energia universale ci sta avvolgendo, ci sta facendo vivere, respirare. Capite? Noi facciamo pratiche assurde per sentire l'energia universale, l'energia lì ti sta facendo vivere. c'è l'aria che respiri, è il cibo che mangi, è il cuore che ti batte dentro. Cioè, e quindi mi chiede, ma la voi non manca niente. Bisogna fermarsi. sentire e che dentro c'è le emozioni e c'è la sofferenza. E la sofferenza non ci piace sentirla. Il problema è che se non sentiamo la sofferenza siamo separati dentro e quindi non riusciamo a sentire. Quindi dobbiamo sentire la sofferenza in primis, farla uscire in secondis e in terzis sentiamo la pace, sentiamo l'amore, sentiamo la voce interiore, la sentiamo meglio perché comunque Dio ci parla sempre, non è che Dio è Dio, scusate, nella giai creatrice, nella giai universale, non è che io chiamo Dio, permettetemi. Non è che Dio sta lì a sindacare e dire ma tu non mi vuoi ascoltare quindi io esco dalla tua vita. Dio ovunque e in tutto ciò che esiste e quindi anche se tu ti metti a martellare centomila chiodi su un assi di legno Dio sta pure lì. Perché nel mentre che martelli entri in quello stato di trance e in quello stato di trance c'è Dio che ti fa una carezza. Allora, grazie, hai letto la mia anima e mi hai fatto un regalo con il tuo sapere. Questo è un periodo che mi piace stare in riva al mare. Da sola io in mare e la sua voce. Eh, Laura, anche io vorrei venire con te in riva al mare a godirmi un po' di quel profumo e a sentire quel grande respiro che è la marea. Quel bel colore azzurro. Eh, sì. C'è bisogno, Laura. Noi dobbiamo tornare alla terra. Cioè, se ti faccio un esempio, adesso voi andate in centro città, proprio nel centro del centro della città. Cosa ci trovate? La via con i negozi. La gente che è piena che fa shopping. E' quelli che bevono, e' quelli che magnano, e' quelli che parlano dell'aria fritta, e' le luci che vi accecano, e' i suoni che vi assordano. I sensi sono bombardati. E poi c'è tutto tutto fatto secondo la la mente umana, eh, non c'è un filo d'erba a pagare l'oro, se non negli spazi appositamente riservati che non puoi calpestare. Quindi vai lì e poi il giorno dopo te ne vai nel cucuzzolo della montagna attorno a te. Ti cerchi la montagna più vicina e ce ne vai sopra. Te ne stai lì in un paio d'ore e capisci cos'è la realtà del creato e che cos'è la realtà a misura di mente umana. E in entrambi i luoghi ti fermi e non ti fai attrarre dei sensi. Sentirai la stessa cosa. se riesci se no sentirei altre cose. Comunque la natura è il luogo più semplice per entrare in contatto con se stessi. L'importante è che tenete il tuo telefono lontano dagli occhi e che non abbiate fretta e che non pensate. Perché noi possiamo vivere nel posto più bello del pianeta ma se abbiamo la testa da un'altra parte non siamo da nessuna parte. Perché i piedi stanno nel posto bello del pianeta e la testa è magari su Marte a pensare come terra a formare quel pianeta e a farsi delle ansie ok? Oppure a preoccuparsi per cosa mangeremo stasera. Allora a una mia impressione a tratti arriva una luce più forte del viso e come ti dicevo Enrico penso che sia il telefono che metta a fuoco in automatico o se no sono gli spiriti sai c'è un giro di spiriti incredibili io penso che sia il telefono però sai magari non è così sì ecco anche adesso è arrivata non so se ha a che fare col mio dito che tocca il telefono però sì ogni tanto lo fa Nicoletta ciao Nicoletta ti ho scoperto questa sera piacevole ascoltarti grazie a Sabrina e spero che beh se avrai voglia Sabrina visto che mi hai scoperto stasera faccio un po' di marketing tieni acchiapati il mio libro te lo ascolti te lo leggi e troverai tante cose belle e interessanti che ti aiuteranno a fare un bello scavo interiore se invece hai già fatto tutto non c'è problema vuol dire che sei semplicemente venuta al bar focus 3.0 a prendere una boccata di anima perché è tornato così in alto a volte questa l'abbiamo letto ok ok l'abbiamo letto ti ho scoperto questa sera uffa scusami devo lasciarti Mariella grazie mille è stato un piacere un momento speciale grazie per la persona mi hai trasmesso emozioni positive grazie ad Enrico buonanotte a tutti grazie a te Mariella è stato un piacere e mi hai dato un sacco di spunti per questa serata ci vediamo grazie Enrico per tenere alta la bandiera della conoscenza della coscienza della ricerca della condivisione dell'amore abbiamo bisogno di persone come te che ci aiutino qua infatti guarda mi hai chiamato mi hai un po' spornato adesso vi faccio un dietro le quinte che mi chiama Enrico mi dice guarda vuoi vuoi venire a fare una diretta stasera è turca perché è un po' che non faccio diretta e quindi poi ho detto ma cosa gli dico cosa non gli dico non mi sono preparato niente e invece è una gran bella cosa hai fatto bene Enrico hai fatto proprio bene a darmi quella spinta che serviva allora dove siamo rimasti siamo rimasti buona notte buona notte questi vanno a dormire è la prima volta che sento la tua voce mi dà pace ma l'ho già letto anche prima urca allora come si chiama il libro sono appena arrivata a Graziella allora Graziella te lo faccio rivedere La via del cuore manuale di istruzioni per l'essere umano scritto da Federico D'Ambrosio edito da Verde Chiaro edizioni e questo è il libro che ho canalizzato con i miei spiriti guida che ci sono definiti esseri di luce informazione cosciente ne sono arrivati diversi nel senso che nel capitolo I Regni della Luce le prime pagine sono di un'entità che ci era definita insomma diversa era un'entità senza emozioni quindi è molto rigida e era stata abbastanza impegnativa da canalizzare nel senso che mi dicevo ma caspita come fate ad essere così logici e freddi e subito dopo sempre nello stesso capitolo I Regni della Luce viene un'altra entità che mi dice guarda quello è un meccanismo di ottimizzazione degli aspetti umani perché gli aspetti umani vanno gestiti ottimizzati e coordinati perché noi siamo 7 miliardi di esseri umani e pensa tutti gli altri miliardi di esseri viventi tu immagina che ci deve essere la sincronicità per dar da vivere e mangiare a tutti quanti per dare le lezioni di vita a tutti quanti cioè non esiste il caso esistono le sincronicità e quindi tu immagina che devono esserci delle energie che devono sincronizzare tutta l'esistenza è tosto e il libro ha fatto bene Enrico una diretta fantastica grazie lei del coro sì ecco amici miei e nuovi amici miei e cos'altro non saprei di cosa volete chiacchierare io penso che per stasera abbiamo condiviso un po' assieme il sentire quello che dobbiamo fare dobbiamo possiamo fare in questi periodi che che ci aspettano è vivere il quotidiano perché comunque il corpo umano che abitate che abitiamo ha dei tempi lentissimi no paragonati il nostro pensiero alla velocità di esecuzione dei nostri pensieri il corpo è lento e noi dobbiamo imparare ad allineare la frequenza della nostra mente alla lentezza del nostro corpo per questo esiste lo zen no fare tutto con consapevolezza con presenza che quella è una forzatura magari se siamo no se non siamo portati a quell'azione quindi è una forzatura per imparare a riconoscere dopodiché si fa altro e a me hanno insegnato l'ascolto del cuore quindi che cos'è alla fine imparare a riconoscere il proprio sentire perché la mente parla 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 ci racconta noi stessi ci racconta come dobbiamo essere ci racconta come siamo stati ci racconta come gli altri ci vedono facciamo i dialoghi con noi e con gli altri elaboriamo quello che abbiamo visto quello che abbiamo sentito ed è un intero universo dicevamo prima che ci tiene lì allora il cuore la via del cuore è un metodo semplice per ascoltarsi per ascoltarsi e tornare dentro perché dentro c'è il motivo perché noi siamo qua fuori ok quindi andare dentro per capire che ci facciamo fuori e una volta che facciamo questo poi andiamo avanti nel processo perché perché noi tendiamo a giudicarci o a giudicare giusto sbagliato devo farlo meglio uff siamo cattivi con noi stessi siamo rigidi siamo rigidi perché abbiamo vissuto rigidità ok non è che siamo stupidi ci hanno insegnato a vivere in un certo modo e noi adesso che siamo i genitori di noi stessi ci facciamo vivere in quel modo quindi non è è un bug dell'essere umano veditela così è un difetto di fabbrica di fabbricazione e quindi ci giudichiamo e quindi più delle volte abbiamo porre di agire perché se no ci sentiamo sbagliati inadeguati incapaci invece dobbiamo imparare ad essere sereni quindi a rallentare i ritmi e a vivere la vita con la gioia della scoperta dire oh vabbè oggi succede questo io ho pianificato tutta un'altra cosa però oggi succede questo magari sbroccate un po' imprecate un po' ma quello che succede succede e quindi bisogna trarre l'insegnamento perché queste energie che creano la sincronicità quindi creano gli eventi inaspettati nella nostra vita se si sforzano di darci quel stimolo in più vuol dire che ci serve ci serve imparare una lezione a diventare più coscienti di noi stessi e poi ricordatevi che non siete soli quindi tutto il mondo che interagisce con voi magari grazie a quel vostro evento impara cose che da solo non potevamo imparare e se non accadeva quell'evento non si creava quella condizione normalmente è tutto collegato in questo modo quindi bisogna torniamo prima a rallentare un po' e in questi giorni in questi periodi comunque vi hanno chiesto di rallentare è vero che lo fanno con metodi caspito ortodossi e brutali però fondamentalmente vi portano a rallentare rallentare andare a piedi perché il metano e la benzina costano un botto quindi stare tornare alla realtà non correre come delle saette impazzite nel sistema alla ricerca di cosa di una scossa elettrica che dura il tempo che dura nel senso compro che cazzo ne so la cintura fighissima la cintura wow di Gucci di Louis Vuitton di chi caspita è bella mille euro mi è costata mezzo stipendio adesso tutti diranno che cintura figa che c'hai ma che serve la cintura tenere sui pantaloni ok basta ok con questo non voglio dire a chi ama la moda che deve andare via vestito con il sacco di juta addosso a volte bisogna rallentare rallentare anche nell'immagine la mia scignetta la posso agghindare con i ciuffi i quattro peli che ho e li metto più giù li metto più su ok mi metto la maglia così mi metto la maglia cosà immagina io vi porto un'immagine di me come agghindo la mia scignetta ma l'energia dell'essere la presenza la coscienza ok che se la ride che lei sono un'altra cosa grazie Enrico per aver condiviso le informazioni sul libro convergere in noi e rallentare servito molto a questo sì 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 perché ci accorgiamo che noi corriamo per niente nel senso la mente è la mente che ci fa correre noi corriamo dietro alle illusioni perché questo è un mondo così complesso nel senso l'abbiamo creato così perché nell'ultimo uno degli ultimi scritti che ho fatto le guide mi dicono ciccio voi siete creatori avete un pezzo del creatore dentro e quindi riuscite a creare mondi mondi infiniti di materia ok create cose e poi vi mettete insieme e create cose in risonanza con quella con quell'energia facciamo un esempio sono le classificazioni le categorie voi immaginate boh chi costruisce macchine si mettono insieme costruiscono macchine sempre più sofisticate le arricchiscono di elementi cosa che se tu oggi ti dici oggi mi metto qua e mi costruisco una macchina da solo diventi pazzo ti ci vogliono cento anni forse perché perché ci sono i creatori quindi quei pezzi di Dio che hanno usano la loro energia perché hanno passione per quella frequenza si mettono tutti insieme fanno le dinamiche di anima si fanno i loro lavori e costruiscono imperi ed è millenni se non migliaia di anni che queste anime si mettono assieme e costruiscono imperi e noi che scendiamo qua ci facciamo un giro in questo si chiama il paese dei balocchi lo chiamava Pinocchio ed è tutto luci coti ricchi premi suoni scolori immagini e ci identifichiamo così tanto in questo bellissimo parco giochi che poi ne rimaniamo così diventiamo asini nel senso perdiamo la coscienza di noi stessi tant'è che c'era la fatina la luce della coscienza e avanti ok quindi rallentare è per riconoscere che il paese dei balocchi se noi non lo alimentiamo con la nostra energia sono come le giostre dell'unac park chiuse infatti il lockdown ha chiuso la giostra dell'unac park se ci pensate noi siamo rimasti con noi stessi a casa poi se ci siamo stati appiccicati alla televisione o all'internet siamo finiti in testa ma se siete rimasti fermi a ascoltare magari il ticchettio dell'orologio a me se ce l'avete analogico che vi cambia la percezione perché poi dici che cazzo faccio cioè quando tutto è fermo quando tutto è lento ti prende la noia ti prende il panico e dici ma cosa faccio niente respiri esisti ti abbandoni è come un pezzo del guerriero della luce di Coelano il guerriero della luce prende si abbandona nella sua tenda e si lascia guidare dei suoi spiriti entri nel mondo interiore graziella cara ogni tanto parto nel senso tu pensa graziella che non sapeva neanche cosa dirvi e che poi mi arriva quell'input e quindi mi viene mi viene qualcosa da trasmettere qualcosa di bello spero mi sembra di sì allora Giole De Sandri Sandri scusami se ci pensiamo bene conduciamo una vita tutta di corsa per andare a gran fetta dove è verso la fine della nostra vita terrena e non ci corregiamo speriamo di perderci il gusto e il sapore dell'attimo caspita perché è scappato di ora dei rapporti Giole è un bellissimo una bellissima riflessione esatto corriamo perché vogliamo esatto in provvedo lo chiamavano il punto di pienezza noi corriamo perché vogliamo raggiungere il nostro obiettivo quindi è come vincere una gara vincendo la gara cosa fai? c'hai la coppa eeeh tutti figo no? voi immaginate ho fatto la corsa ho vinto la gara tutti che mi applaudono il primo il secondo il terzo posto le fotografie quanto dura questo? c'è il momento della premiazione quanto dura? mezz'ora un'ora dopo un po' se la sera la gente ha fame si è rotta i maroni perché è tutto il giorno che sta lì e tu che fai? resti lì con la tua coppa a festeggiare per altre cinque ore no hai raggiunto un picco massimo di gioia di euforia di pienezza appunto e poi ricominci e allora quando noi entriamo in questo meccanismo mentale di azione ricompensa azione ricompensa azione ricompensa creiamo poi percorsi infiniti perché le ricompense possono essere infinite e il livello con cui ci misuriamo continua ad aumentare d'accordo ed è infinito il livello nel senso i mondi che costruiamo e i mondi che il sistema economico crea sono infiniti per cui a un certo punto do corri come giustamente Giole dici poi vai la vita finisce e ti sei perso che cosa hai detto giusto il gusto e il sapore dell'attimo quindi del presente della realtà e dei rapporti delle relazioni perché per la troppa fretta di raggiungere l'obiettivo ti sei persa tutti i compagni di viaggio mentre sono i compagni di viaggio che sono quelli che ti accompagnano nella vita non sono i traguardi che hai raggiunto cioè sono anche quelli però la vita è relazione dicono le guide la relazione con se stessi e gli altri tutto il resto è illusione in realtà è il mezzo per avere la relazione oh millina cara io penso che specialmente in questo momento cercare dentro di sé la pace e la gioia la gratitudine sia l'unica medicina per stare bene e quando riusciamo a provare bellissime emozioni d'amore pensare di inviarle nel mondo dove c'è sofferenza e dove manca amore con l'idea di creare diversi pensieri buonanotte anima bella sei per tutti noi un dono meravigioso namastere sì sì bisogna portare millina i pensieri i pensieri servono tanto ok il piano mentale serve perché alimenta l'energia e come si dice aiuta a far arrivare l'idea però poi bisogna portarla nel concreto perché questo è il mondo dove la terza dimensione quindi il mondo fisico si chiama il mondo degli effetti e quindi noi dobbiamo poi far passare questa energia no dalla quinta quarta alla terza perché noi qui dobbiamo portarlo un mondo d'amore perché se lo immaginiamo e basta poi nessuno lo porta facciamo un esempio siamo io e te e tutti gli amici di Focus siamo a casa mia c'è una grandissima tavolata e tutti immaginiamo di far la cena allora io mando a te una portata di patatine fritte tu mi mandi una portata di maccheroni casio a pepe l'altra ci manda una non lo so un tofu super arricchito con chi sa l'altra mi manda una torta però nessuno prepara da mangiare dopo cinque ore moremo di fame nel senso bisogna poi la mente è uno strumento ok ma da sola lei sta in quarta dimensione se è accesa la luce la mente sta in quarta dimensione utilissima per gestire immaginare visualizzare predire premunire pre fare prima quindi predisporsi la mente predispone il corpo all'azione la mente simula le azioni quindi evita alcune volte l'esperienza ma l'esperienza va fatta per concretizzarla ok perché se no se non facciamo l'esperienza non prendiamo coscienza questo dicono le guide e quindi bisogna portare l'amore sulla terra attraverso gesti d'amore un gesto d'amore per esempio sono state le proteste degli stessi russi nei confronti dell'Ucraina perché si sono fatti arrestare alcuni si sono fatti malmenà è un gesto d'amore che fai nei confronti di un altro se tutti fossero rimasti indifferenti avessero scritto solo su facebook era diverso questo è un esempio banale banale scusatemi nel senso un esempio di fra miliardi di esempi ma l'ho visto di recente nel senso che quindi così comunque grazie e buonanotte il bello dell'anime pure grazie ah Valter è arrivato allora sei ispirato ti fai le dirette anche se credi di non sapere quello che devi dire perché riesci ad entrare nel cuore sempre ma giusto io penso che se ci sono persone che hanno voglia di condividere l'energia arriva a sostenerci tutti quanti nel senso è in questo momento ci sono 28 persone collegate 28 anime che stanno guardando tutte nella stessa direzione stiamo insieme e costruiamo un mondo o cerchiamo di riconoscere il nostro mondo e quindi è la condivisione che fa i miracoli se non ricordo male qualcuno mi diceva quando una o più persone si riuniranno nel nome mio io sarò con loro era un modo per dire che certe porte si aprono quando c'è la volontà di osservarle perché se nessuno non si è ricco non mi chiedeva niente e qua non c'era nessuno a guardare tutte queste cose restavano dentro di me ma ma io io stesso avrei vissuto un'altra serata ok e io stesso non le avrei viste e sentite quindi il dono che ci facciamo è reciproco io stando qui per voi mi permetto di vivere e sentire queste cose è un miracolo che che si fa insieme è un atto di amore che facciamo insieme tutti ci apriamo a questa dimensione ma per il semplice fatto che avete scelto me come specchio vedete quello che io riesco a mostrarvi vedete le mie bellezze le mie brutture le mie la mia luce la mia ombra perché io sono uno specchio comunque deformato sono io il filtro io fra me ed io io sono il filtro quindi dove ho trasformato il dolore in amore vedete la luce dove c'è ancora la sofferenza vedete l'opaco e quindi quello che vi dico non vi risuona l'anima dove invece c'è l'amore dove c'è la luce la vostra anima risuona e vibra e vi fa sentire questa gioia questa pace queste emozioni perché la riconoscete in voi come verità è una cosa ha un peggio chiamiamolo giochini in realtà è una proprietà dell'essere molto bella questa la risonanza entriamo in risonanza con l'amore perché noi tutti stiamo facendo un gesto d'amore per noi stessi alla fine e per gli altri di conseguenza quindi grazie a voi perché se non ci foste voi io starei a fare altre cose e magari non riuscirei a vivere queste emozioni anzi sicuramente non le avrei vissute non tutte quelle che ho vissuto stasera perché siete voi a fare la differenza per me e io per voi siamo tutti parte della stessa energia no? qual è la goccia del mare più importante? non ce n'è sono tutte gocce dello stesso mare noi abbiamo bisogno perché la scimmietta l'io ha bisogno di essere amato di sentirsi amato e quindi deve essere importante per qualcuno perché se non sono per importante per nessuno nessuno mi ama e quindi non vago niente e quindi faccio schifo e quindi la mia vita scusatemi il termine è una merda capite com'è un giochino allora se sono importante se sono figo se sono brillante se sono ricco se sono se sono se sono qualcuno mi amerà e quando mi ama basta ti dà ti amano ti senti amato e sei pieno per questo qualcuno diceva ama il prossimo tuo come te stesso perché se ti riempi dell'amore che hai dentro poi lo puoi condividere quell'amore semplice allora tu fai le dirette dove è finito perché continua a scappare tu fai le dirette anche se credi che non sapevi ah no quello l'abbiamo letto le relazioni sono il nostro arricchimento interiore lo scambio la condivisione le esperienze e soprattutto il dono alle altre anime che poi sono sempre parte di noi scambio amore e ora eh sì fondamentalmente hai ragione allora le relazioni sono il nostro arricchimento interiore sì la relazione permette di di avere un feedback e mi permette di riconoscere mentre agisco è un è un doppio cioè un doppio rimando uno è quello che tu mi rimandi e l'altro è quello che io riconosco mentre faccio e quindi è un doppio arricchimento ed è poi lo scambio sì nel senso quando mi dai amore e o io ti do l'amore ce lo scambiamo e quindi è un'energia che va increscendo e quindi la condivisione sì come la conoscenza come il pane spezzare il pane insieme o l'affetto l'abbraccio se io abbraccio te tu abbracci me ci scambiamo l'amore condividiamo i nostri cuori ma sì è una bella cosa l'esperienza e soprattutto il dono alle altre anime poi sono sempre parte di noi alla fine sì chi è che iniziava tu sei me vista da un altro punto di coscienza e comunque siamo tutti goccia del mare come dicevamo prima bello grazie uffa la chat è terribile allora dove siamo finiti maria non esiste il caso allora non esiste il caso ci dovrei essere stasera se c'è non boh non lo so ma sta arrivando che ci sono ti ringrazio nel senso che è molto bello era un po' che non le facevo le dirette quindi non mi nascondo che ho detto un po' magari sono più capace dico cose scontate umanamente parlando io ho sempre un po' di timore sapete ho bisogno di essere amato quindi ditemi che sono bravo e poi invece le cose prendono la loro piega comunque sì bisogna tornare un attimo alla nostra situazione umana e dei nostri simili il nostro compito alla fine è cercare di vivere bene il nostro quotidiano e di trasmettere questo a noi e agli altri partiamo dai nostri nuclei stretti e poi cerchiamo di espanderlo perché non possiamo fare più di tanto nel senso l'abbiamo visto c'è le proteste purtroppo contro i carri armati fanno poco però fanno nel senso fanno per noi che stiamo vivendo l'esperienza e per le persone che la vivono insieme a noi per cui è un'energia che fa il dissenso come dicevamo prima i muscoviti che hanno protestato e che si sono fatti anche arrestare non cambieranno il corso della guerra però lo cambiano per tante anime che sono magari come noi qua a parlarne adesso quindi un'azione anche la più banale non è mai inutile serve un po' a tutti e quindi più azioni amorevoli compiamo nel mondo e più questo mondo diventerà amorevole dobbiamo dobbiamo sforzarci un po' ecco amici miei io penso che per stasera così ci possiamo salutare è stato proprio bello stare insieme a voi mi avete dato tanto spero di rivedervi presto bella noto quattremese wow giù buonanotte ecco amici dai vi ringrazio veramente infinitamente è stata una gioia stare con voi stasera e poter sentire nuovamente questo amore che ci circonda vi abbraccio forte e vi mando un grande bacio buonanotte a tutti